Benvenuti benvenuti cari amici siamo venuti in questo nuovo video oggi andiamo a parlare di Bitcoin, Ethereum, CRO, Solana, Sandbox e infine Sessius per cui iniziamo subito da questo tweet da parte di Bitcoin Archive che cosa vediamo vediamo che quando Bitcoin ha raggiunto la media a 200 settimane successivamente c'è sempre stato uno skyrockets abbiamo visto nel 2016 dove quando Bitcoin raggiunse i livelli della media 200 settimane poi si fece un 120x abbiamo visto durante il bear market del 2019 dove poi Bitcoin fece un 3.5x e infine nel 2020 quando Bitcoin fece un 15x quindi vi chiedo a voi nei commenti quanto potrebbe fare Bitcoin in futuro dato che abbiamo raggiunto la media a 200 settimane. Un altro elemento che potrebbe comportare successivamente un skyrockets proprio di Bitcoin in futuro è il seguente perché se noi andiamo a vedere l'indicatore net unrealized profit loss detto anche nuple siamo giunti all'interno di zone rosa come vedete quando Bitcoin ha raggiunto la zona rosa che indica capitolazione successivamente ha decretato un skyrockets di Bitcoin quindi potremmo riprodurre la stessa identica cosa più in particolare anche i volumi ok sono aumentati e anche qui ci dicono sempre la stessa cosa quando Bitcoin in concomitanza della media 200 settimane e c'è stato anche un aumento sensibile dei volumi sia in vendita che ne acquisto successivamente poi c'è stato un skyrockets quindi che cosa ci manca adesso volumi in acquisto i volumi in vendita che vendite massive le abbiamo avute se ricordate lo scorso sabato addirittura abbiamo preso i 17.800 dollari quindi il bottom potremmo averlo fatto questo è il succo del discorso infatti se andiamo a vedere il prezzo Bitcoin in questo momento è di 21.440 dollari l'area che sto monitorando in questo momento sono i 23.000 dollari secondo me considerando il rischio di rendimento in questo momento è più che fattibile che Bitcoin possa riraggiungere questi livelli poi altro elemento molto importante se andiamo a vedere quelle che sono le metriche di Bitcoin in seguito agli halving ok quindi primo halving secondo halving terzo halving sappiamo che nel 2024 che ad aprile avremo il quarto halving e cosa ci dicono anche qui che Bitcoin sembra abbia raggiunto il bottom per cui il bottom potrebbe essere proprio questo in concomitanza dei 17.800 barra 20.000 dollari e soprattutto che il numero di persone che hanno almeno un Bitcoin sta sempre più aumentando naturalmente i prezzi sono bassi quindi le persone stanno andando a accumulare in questo momento siamo 870.000 persone con almeno un BTC ora andiamo a vedere questa notizia su Ethereum ok perché ci sarà un aggiornamento detto anche Gray Glasser e che cosa serve a questo aggiornamento allora come noi sappiamo arriverà il merge ok in teoria ad agosto secondo me più tardi però Vitalik ha detto ad agosto naturalmente qual è il problema che a un certo punto i miners di Ethereum si troveranno senza lavoro quindi sembrerebbe ok che i miners stiano iniziando a fermare le loro attività già quindi per evitare ok questo problema definito anche come difficult boom hanno attuato questo aggiornamento detto anche Gray Glasser se andiamo a vedere quello che prezzi di Ethereum in questo momento è di 1242 dollari anche qui l'area che sto considerando sono i 1450 secondo me potrebbe ok rimbalzare sui 1450 ma li successivamente scarico e poi prendere e ripartire altra notizia secondo me che è davvero importantissima è la seguente perché Cristiano Ronaldo stringe una partnership ok con Binance naturalmente noi sappiamo come la maggior parte delle persone che investono in crypto sono uomini e quindi andare ok all'interno del mondo del calcio è molto ma molto importante poi anche Crow che si sta muovendo attraverso un lancio di un programma di 100 milioni quindi si sono andati ad autofinanziare sostanzialmente e se andiamo a vedere che Crow ha una capitalizzazione di 3,2 miliardi capite come 100 milioni sono davvero tanti in rapporto a quella che è la sua market cap. In questo momento Crow si trova un prezzo di 0.12 centesimi per io penso che in futuro potrebbe riraggiungere i livelli molti superiori vi ricordo anche che sul Tamai è addirittura 0.95 dollari ma ora andiamo a questa big news perché secondo me è davvero una notizia pazzesca ok per Solana perché hanno deciso di lanciare il loro smartphone ok e in più una loro piattaforma quindi a dove si andranno a sviluppare app ed apps per cui attenzione perché Solana si sta muovendo naturalmente noi sappiamo qual era il rischio che di giorni fa su Solana perché una balena era andata ad attingere ok denaro per un controvalore di 170 milioni di dollari depositando semplicemente 6 milioni come collaterale al momento sembra che il problema ok sia stato risolto però attenzione su Solana quindi in questo momento in seguito a questa notizia naturalmente c'è stata una bella risposta da parte di Solana siamo passati dai 25 dollari del 15 di giugno agli attuali 40 dollari del 26 giugno quindi attenzione l'area che sto attingendo anche qui che sto considerando sono i 45 dollari però naturalmente investire in seguito a una notizia non è che sia la migliore cosa e secondo me comunque Solana avrà un piccolo dump l'abbiamo già visto al giorno di oggi siamo passati i 42 dollari ai 40 dollari però naturalmente queste sono notizie che fanno capire come su Solana si stia lavorando andiamo a vedere anche Sandbox perché ha registrato addirittura un più 20% perché in sostanza Meta e Microsoft hanno dato la notizia a chi andranno a lavorare e investire all'interno dei loro metaversi e di conseguenza come noi sappiamo Sandbox è uno dei primi metaversi esistenti e anche uno dei più importanti ha registrato un più bel 20% io penso che Sand avrà un futuro sappiamo come anche le terre di Sandbox siano al momento veramente basse questa è la mia idea naturalmente non sono né i consigli finanziari né i consigli di trade ma io vi dico sempre quella che è la mia in questo momento prezzo di 1.30 però guardate qui che è risposta siamo passati da 0.73 a 1.30 nel giro di una settimana per cui è qualcosa di assurdo e anche qui l'area da attenzionare è il 1.53 dollari perché è la resistenza diciamo principale al momento per cui attenzione perché se Sand va a passarla potremmo vederlo presto anche verso i 2 dollari infine andiamo a vedere l'ultima notizia che secondo me anche questa è molto importante per tutto l'ecosistema in criptovalute che riguarda Celsius perché vanno a assumere i maggiori consiglieri perché Celsius sostanzialmente rischia la banca rotta abbiamo visto come FTX è andato a finanziare Celsius però davvero hanno un buco molto importante vi ricordo che su Celsius hanno solo liquidità per 1.5 miliardi quindi quando se domani tutte le persone che hanno depositato i loro fondi su Celsius volessero prelevare devono sbossare 10 miliardi per cui questo è il problema principale per quanto riguarda Celsius naturalmente io penso che FTX e Binance in questi casi non staranno a guardare visto quello che è successo già con Terra Luna andiamo infine a guardare questo che è il prezzo di Celsius è di 1 dollaro però io prevedo che ci sarà tantissima volatilità su Celsius se l'abbiamo visto addirittura siamo passati del 0.15 ok del 13 giugno a 1.88 del 15 di giugno per cui ovviamente anche qui le whales stanno facendo i loro giochi per cui state molto molto attenti ok se decidete di entrare su Celsius e per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di uscire il botone di like di iscrivervi al canale e ci vediamo presto naturalmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo Elite se volete con un costo di 50 euro e al gruppo Premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di stugge il botone di like di iscrivervi al canale e ci vediamo presto